Palazzo Ardinghelli, serie del Maxi da oggi con l'apertura al pubblico da domani, ospita una riflessione per immagini sui temi della memoria, della metamorfosi e dell'alternanza tra creazione e distruzione attraverso le opere di After Remage, una mostra collettiva curata dal direttore del Maxi, Bartolomeo Pietro Marchi e Alessandro Rabottini. Ci saranno, durante questo periodo, perché sarà aperta sino al 19 febbraio, incontri tra il pubblico e alcuni degli artisti, 26 artisti rappresentati con dialoghi con opere esistenti presenti nella collezione del Maxi, tra pittura, scultura, fotografia e video, una mostra che attiva una riflessione sulle molteplici forme con cui ciò che è trascorso persiste attorno alle persone e nelle persone. La mostra di respiro internazionale ben si colloca però all'Aquila, dove ogni giorno si testimonia l'equilibrio tra memoria del passato e impulso alla trasformazione, tra i fili che si intrecciano, commissione ad artisti italiani e non, le opere della collezione del Maxi e le memorie che gli spazi di Palazzo Ardinghelli evocano. Sono 26 artisti internazionali che dialogano, tra opere della collezione del Maxi ma con altrettante, se non anzi di più, opere commissionate per l'occasione o prestiti da importanti collezioni o da artisti. Abbiamo voluto restituire di nuovo un altissimo livello di espressione artistica contemporanea, come già con le mostre precedenti, dialogando fortemente con il contesto. È una mostra che abbraccia tutti gli spazi del Maxi, anche l'esterno e i cortili. Sì, After Image è una mostra che, come dire, è stata una mostra sulla trasformazione, sulla memoria, ma anche sulla metamorfosi, quindi sul fatto che le cose nella vita delle persone non stanno mai ferme, quindi si muovono nel tempo e nello spazio. Quindi è una mostra in cui abbiamo deciso di utilizzare veramente tutto il museo, fin dall'esterno e non solamente nelle sale propriamente dette, ma anche in tutti i passaggi funzionali, nella corte interna, nei corridoi, nelle sedra. Quindi, come dire, è tutta l'architettura che è pensata come un pieno, ma anche come un pieno dinamico, ma non solamente dinamico da un punto di vista proprio materiale, ma anche metaforico e simbolico.